Ciao bellissima, benvenuta al convento di Lonato siamo qua in compagnia di una bellissima sposa che si chiama Silvia Silvia vieni da dove? Da Sarezza Da Sarezza, provincia di? Brescia Sicura? Sì Ok, ti sposi quanto Silvia? Il 10 di dicembre Il 10 di dicembre ti sposi con chi? Andrea Forse ti sposi con Andrea? Forse sì Quindi stasera sei venuta qui al convento per avere la conferma se sposarlo o meno? Sì, esatto O sei sicura di sposarlo? No, sono sicura Dimmi un bel pregio e un difetto del tuo futuro marito Andrea Dai, un pregio Cosa? Non ha pregi? Nessuno? Difetto? Ne ha tanti? Quali? Dimene uno Che non è geloso Non è geloso, quindi lo adori? Lo adori che non è geloso? No, è un difetto Ah, credo che era un pregio A mezzate donne dicono che è un pregio Saluta, andrei in camera e mandali un grossissimo bacio Ciao 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 Grazie a tutti!